la comunità degli Esseni e il ruolo di Gesù. Gli Esseni erano un gruppo religioso ebraico che apparve nella metà del secondo secolo anno corrente e durò fino alla prima guerra giudaica, 66 a 70 dc. Erano una comunità monastica che si ritirava dal mondo per vivere una vita di preghiera, studio e lavoro. Il nome gli Esseni deriva dalla parola ebraica Asidim che significa i Pii. Gli Esseni erano considerati i più Pii tra gli ebrei e la loro fede era basata sull'osservanza rigorosa della Torah, la legge mosaica. Gli Esseni credevano che il mondo fosse corrotto dal peccato e che solo una piccola minoranza di persone, i giusti, sarebbero stati salvati. Si consideravano i membri di questa minoranza e la loro vita era dedicata alla preparazione per il giorno del giudizio. Gli Esseni vivevano in comunità separate, isolate dal resto del mondo. Le loro comunità erano organizzate in modo gerarchico, con un leader chiamato il Maestro di Giustizia. I membri della comunità vivevano in povertà e semplicità e si dedicavano alla preghiera, allo studio e al lavoro manuale. Nel 1947 furono scoperti nel deserto della Giudea i Rotoli del Mar Morto, una collezione di manoscritti che includevano testi Esseni. Questi manoscritti hanno fornito agli studiosi una preziosa fonte di informazioni sulla vita e la fede degli Esseni. Gesù e gli Esseni La relazione tra Gesù e gli Esseni è un tema dibattuto da secoli. Alcuni studiosi ritengono che Gesù fosse un Esseno, o che almeno fosse stato influenzato dal loro pensiero. Altri studiosi, invece, ritengono che Gesù fosse un dissidente Esseno, o che addirittura si opponesse al loro movimento. In realtà, non ci sono prove definitive che Gesù fosse un Esseno. Tuttavia, ci sono alcune somiglianze tra il suo messaggio e quello degli Esseni. Ad esempio, sia Gesù che gli Esseni credevano che il mondo fosse corrotto dal peccato, e che solo i giusti sarebbero stati salvati. Inoltre, entrambi enfatizzavano l'importanza della preghiera, dello studio e del lavoro manuale. È possibile che Gesù abbia avuto contatti con gli Esseni durante la sua vita. La Galilea, dove Gesù trascorse la sua infanzia e giovinezza, era una regione in cui gli Esseni erano presenti. Inoltre, Giovanni Battista, che fu un importante precursore di Gesù, è stato identificato da alcuni studiosi come un Esseno. Tuttavia, è anche possibile che Gesù abbia sviluppato le sue idee indipendentemente dagli Esseni. Dopotutto, il suo messaggio era radicato nella tradizione ebraica, e molte delle sue idee erano condivise da altri gruppi religiosi dell'epoca. In definitiva, la questione è se Gesù fosse un Esseno o meno e irrisolvibile. Tuttavia, la sua relazione con gli Esseni è un tema affascinante che continua ad essere dibattuto dagli studiosi. Le possibili influenze degli Esseni sul cristianesimo Se Gesù fosse stato un Esseno, o se almeno fosse stato influenzato dal loro pensiero, è possibile che le sue idee abbiano avuto un'influenza sul cristianesimo. Ad esempio, è possibile che la pratica cristiana della comunione abbia avuto origine nella pratica Essena della cena del sacco. In questa pratica, gli Esseni consumavano un pasto comune in cui si condividevano pane e vino. Inoltre, è possibile che il concetto cristiano del regno di Dio sia stato influenzato dall'idea Essena del giorno del giudizio. Gli Esseni credevano che il giorno del giudizio sarebbe stato un momento di giudizio e di purificazione, in cui i giusti sarebbero stati salvati e i malvagi condannati. Naturalmente, è impossibile dire con certezza se le idee degli Esseni abbiano avuto un'influenza sul cristianesimo. Tuttavia, è un'ipotesi plausibile che vale la pena di esplorare.